prima della preghiera leggiamo in romani capitolo 12 dal versetto 9 romani capitolo 12 dal versetto 9 l'amore sia senza ipocrisia abborrite il male e attenetevi fermamente al bene quanto all'amore fraterno siate pieni di affetto gli uni per gli altri quanto all'onore fate a gara per rendervelo reciprocamente quanto allo zelo non siate pigri siate perventi nello spirito servite il signore siate allegri nella speranza pazienti nella tribolazione perseveranti nella preghiera fin qui per quanto riguarda queste preziose parole di dio vorrei leggerle di nuovo in modo che possano essere profondamente impresse nei nostri cuori e possa lo spirito di dio questo pomeriggio rendere queste parole della scrittura una realtà nella mia vita e nella vostra che non solo queste parole possa ogni parola delle scritture essere una testimonianza vivente nella vostra vita e nella mia vita che noi come una lettera scritta possiamo essere letti da tutti l'amore sia senza ipocrisia abborrite il male e attenetevi fermamente al bene quanto all'amore fraterno siate pieni di affetto gli uni per gli altri quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente quanto allo zelo non siate pigri siate ferventi nello spirito servite il signore e per la testimonianza che darò qui oggi vorrei sottolineare questo versetto 12 e poi leggere gli ultimi versetti del capitolo 11 nel versetto 12 siate allegri nella speranza pazienti nella tribolazione perseveranti nella preghiera da romani capitolo 11 versetto 33 o profondità della ricchezza della sapienza e della scienza di dio quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie infatti chi ha conosciuto il pensiero del signore o chi è stato suo consigliere o chi gli ha dato qualcosa per primo si da riceverne il contraccambio perché da lui per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose a lui sia la gloria in eterno amè amè alziamoci in piedi e preghiamo preghiamo insieme padre celeste padre celeste ti ringrazio per il grande privilegio di stare in questo luogo oggi per testimoniare al tuo popolo ciò che tu hai fatto ti chiedo di darmi la forza fisica per questi minuti e di benedirci in questa riunione guidaci più vicini a te e uniscici gli uni con gli altri come abbiamo cantato che nulla possa ostacolare il tuo spirito che il proprio io tutto il proprio volere fare possa essere sepolto che possiamo risorgere con te a una nuova vita a una vita nello spirito a una vita divina con te togli da noi tutto ciò che ti ha ostacolato che potrebbe ostacolare la tua presenza oggi oh Dio chiedo la tua presenza dammi le parole da dire oggi in questo luogo alla gloria del tuo nome lo chiedo nel nome di Gesù amen amen con tutto il mio cuore do il benvenuto a tutti voi saluto voi che siete presenti e tutti coloro che ascolteranno questa cassetta nel prezioso e santo nome del Signore specialmente tutti coloro che probabilmente oggi sono qui per la prima volta vorrei darvi il benvenuto e augurarvi la benedizione di Dio oggi non predicherò oggi posso solo dare una breve testimonianza poi dovrò sedermi perché sono fisicamente molto debole solo venerdì pomeriggio sono stato dimesso dall'ospedale dove sono stato ricoverato dal primo gennaio con la malaria un'embolia polmonare un fegato nero come il carbone una milza tre volte più grande del normale e alcune complicazioni con avvelenamento del sangue il sangue era blu scuro e sono stato ricoverato in ospedale ho portato con me la malaria dall'Africa occidentale dal Ghana senza sapere cosa fosse o cosa recasse con sé pensavo che fosse solo un'influenza o un raffreddore e inizialmente sono venuto a Zurigo voi lo sapete l'ultima domenica di dicembre mi sono riposato un po' a casa e mi sono alzato di nuovo non ero mai stato ammalato in vita mia non sapevo nemmeno cosa significasse e all'improvviso è arrivato il momento in cui avevo la febbre sopra i 40 gradi ed è arrivata a 41 gradi e mio fratello ha detto devi andare in ospedale e quando sono arrivato là ho sentito solo i medici che si dicevano l'un l'altro che probabilmente era troppo tardi e uno ha detto all'altro esame del sangue chiama la banca del sangue trasfusione di sangue dunque era una cosa dopo l'altra e nel mio cuore c'era non una trasfusione di sangue se Dio vuole tenermi in vita allora a modo suo e non in modo umano io credo nella trasfusione di sangue ma non credo che io dovrei riceverla è lasciato a ciascuno personalmente i miei due fratelli di carne sono rimasti in ospedale e volevano rendersi direttamente disponibili per questo se volessi raccontarvi tutti i dettagli dei tre o quattro giorni che ho passato lì sarebbe troppo lungo la prima notte il fratello Rus ha vegliato su di me mio fratello che è con me oggi con il quale siamo stati intimamente uniti e attivi nel regno di Dio per quasi trent'anni vi parlerà brevemente più tardi la seconda notte è stato il fratello Schmidt a vegliare su di me la terza il mio fratello minore Helmut e la quarta il mio fratello maggiore Arthur e devo dire in quei giorni nelle ore della morte ve ne parlerò tra un momento ho attraversato la valle della morte lo sentirete fra un attimo che grazia Dio mi ha dato in tutto questo dopo il primo esame e quando tutto era stato determinato e la speranza se n'era andata il mio fratello maggiore è entrato nella stanza in cui mi trovavo dispeso da solo e ho udito le sue parole e gli disse Gesù Cristo non ha vinto solo al Golgotha Gesù Cristo ha vinto qui in questa stanza qualcos'altro non esiste non potevo dire una parola ma l'ho sentito arrivato all'esame successivo ho sentito un uomo morente accanto a me e bisogna sentirlo una volta quando un incredulo sta morendo ciò attraversa le vostre ossa e le midolla ho udito le sue grida e vi dico ciò mi ha attraversato e attraversato ma nel mio cuore c'era una certezza che stavo andando dal Signore e se c'è una cosa come una certezza del mille per cento allora l'ho avuta non avevo un solo pensiero e neanche una volta ho pronunciato la frase Signore tienimi in vita volevo andare a casa nella gloria dal mio Signore questo era l'unico desiderio che avevo ma prima che lo dimentichi vorrei dire che non ho sofferto per un solo momento neanche per un solo momento si fece buio davanti ai miei occhi svenne persi le forze tutto ciò era là ma neanche per un momento ho avuto alcun dolore ma poi quando ho sentito quest'uomo morente nei suoi ultimi momenti e aspettavo che fosse il mio turno per un ulteriore esame naturalmente mi venne il pensiero la tua ora potrebbe arrivare anche adesso non potevo parlare ma dentro di me pronunciai in silenzio le parole signore come sto davanti a te e un attimo dopo fui preso fuori dal mio corpo ed ero nel rapimento il mio corpo era trasformato ero giovane e ho visto il rapimento e vi ho preso parte ho visto come la moltitudine la schiera acquistata col sangue fu sollevata nell'aria era una veduta come l'alba di un nuovo giorno non il rosso del mattino ma una luce giallastra che brillava io ero durante questa esperienza all'estrema sinistra e potevo guardare a destra e ho visto la moltitudine redenta che veniva rapita fratelli e sorelle la beatitudine che scorreva in me non può essere compresa guardai di nuovo tutti erano vestiti di bianco tutti giovani ma ognuno aveva il suo colore dei capelli e questa era una veduta un po' strana in tutto questo alcuni biondi alcuni scuri il colore dei capelli era come qui sulla terra ma tutti vestiti di bianco le braccia e i piedi portati verso l'alto per non essere sollevati come un razzo ma lentamente sollevati in alto improvvisamente ho guardato avanti e ho visto una luce che non è stata ancora vista sulla terra e non può essere vista e ho visto la linea di demarcazione tra il regno dell'aria e la luce della gloria che praticamente posta sopra di essa era la sezione che probabilmente appartiene al regno terrestre è il passaggio nell'eternità nella gloria orizzontalmente posso descriverla completamente e su questa linea tracciata orizzontalmente che come ho detto prima sembrava una luce ma un po' giallastra come l'alba di un nuovo giorno c'era questa luce che scendeva dall'alto che si è posta su di essa e ho pensato se potessi arrivare a questo punto fino a questa linea allora vorrei guardare in alto e ancora una volta vidi me stesso sulla destra uno guardava l'altro ogni volto era sorridente nessuno rideva ma l'espressione sul volto era più che una beatitudine più che gioia non si può descrivere era una gloria come non avevo mai visto prima e improvvisamente siamo arrivati a questa linea che come ho appena detto probabilmente separa il tempo dall'eternità e ho guardato in alto solo uno sguardo e ho visto la città come il cristallo brillava non so se avete mai osservato la neve appena caduta su cui il sole splende come luccica così simile a uno scintillio e ho visto come dal punto centrale come una piramide dall'alto la luce scendeva non era una linea omogenea la linea era un po' curva verso l'interno l'ho vista così chiaramente come vedo voi davanti a me io sperimentato la trasformazione l'uscita dal mio corpo la trasformazione il rapimento praticamente già in anticipo vi dico cosa mi è successo per questo posso solo ringraziare Dio con tutto il mio cuore non so quanto sia lontano il rapimento ma una cosa la sappiamo tutti il nostro Signore viene presto e da quel giorno so che ci sarò quando egli tornerà sulle nuvole del cielo per prendere i suoi che grazia essere un credente che privilegio servire il Signore e a motivo di questa esperienza ho affrontato tutto questo volentieri e senza mormorare al riguardo ma ringrazio semplicemente Dio con tutto il mio cuore che egli ha un tale modo di fare con noi ho passato la mia vita al servizio di Dio di giorno e di notte ho viaggiato e non mi sono curato di me stesso e della mia condizione fisica negli ultimi 15 o 16 anni ma ho dato il mio pieno contributo nel regno di Dio e non ho certo capito che anche la condizione fisica può esaurirsi un giorno con un tale impegno e tuttavia ringrazio il signore e se egli mi lascia rimettere in salute e mi tiene ancora qui allora con il suo aiuto continuerò a fare così perché un'anima è più preziosa del mondo intero e il messaggio che Dio ci ha affidato è la parola di Dio rivelata per questo tempo ci rivela la volontà di Dio non è un'interpretazione né una spiegazione umana ma un così dice il signore attraverso la sua parola e tramite il suo profeta possa questo essere un nuovo inizio e vorrei ringraziare con tutto il cuore con tutta l'anima tutti voi che siete stati dietro di me o con me nelle ore e nei giorni di prova come ho già detto avrei voluto andare a casa oh che beatitudine ogni volta che il flusso attraversava tutto il corpo una beatitudine come non può esserci sulla terra e guardo sempre di nuovo e gioisco è la schiera redenta che è stata o sarà rapita tutti con un volto trasfigurato guardandosi l'un l'altro e poi guardando di nuovo in alto in breve questo momento arriverà quando sono rinvenuto ero di nuovo nel mio corpo e ho avuto la consapevolezza di essere ancora qui ho pianto amaramente le mie lacrime scorrevano a destra e a sinistra erano calde le ho sentite ma poi quando ho sentito come i miei fratelli hanno cercato il volto di Dio sono arrivate delle telefonate dalla Svizzera e da molti paesi e delle lettere e c'era solidarietà che fosse espressa o no era semplicemente là da tutti coloro che ne avevano sentito parlare e vorrei cogliere l'occasione per ringraziarvi di vero cuore ed esprimere la speranza che Dio ci darà altro tempo insieme di preparazione di benedizione per grazia finché la sposa sia in una tale condizione che lo sposo possa ritornare e con gioia portarlo a casa una sposa senza macchia e senza ruga una sposa unita nell'intimo amore di Dio lavata nel sangue dell'agnello e con le vesti risplendenti più bianche della neve fratelli e sorelle ve l'ho detto sono uscito solo venerdì sono stato sdraiato tutto questo tempo sono ancora molto debole nel mio corpo devo sedermi ma vi ringrazio per avermi sopportato come sono qui oggi volevo essere qui ad ogni costo perché vi amo con tutto il mio cuore questo posso dirlo al cospetto di Dio e quando il fratello Rus ha sentito che volevo venire ha detto non ti lascerò solo ti accompagnerò io verrò con te nei giorni più bui ho potuto conoscere i miei fratelli sono grato a Dio per questo oh non sappiamo in quale situazione ci troveremo ancora quali ore Dio può avere ancora in mente per noi amiamoci l'un l'altro intimamente e di vero cuore Paolo disse come sono incomprensibili le tue vie imperscrutabili i tuoi giudizi e Paolo scrive in Galati capitolo 4 alla Chiesa che la sua condizione fisica aveva causato un intoppo tra loro ma un intoppo solo per coloro che non camminano nella luce chi cammina nella luce non si intoppa questi ringrazia il Signore lo dico ancora una volta nei giorni più bui ho imparato ad apprezzare l'amore dei miei fratelli nella carne e dei miei fratelli spirituali così tanto che non posso dirlo a nessuno fratelli e sorelle Dio ci ha amati in Gesù Cristo il nostro Signore amiamoci di vero cuore l'un l'altro con lo stesso amore Dio vi benedica grazie